Viviamo nell'era geologica dominata dagli umani, l'antropocene, e la buona notizia finisce qui. Siamo a 8 miliardi, la temperatura sale, l'anidride carbonica è a 400 parti per milione, il terreno pro capite diminuisce, il livello degli oceani cresce, e questi sono solo alcuni degli elementi di vulnerabilità con cui ci dobbiamo confrontare noi, ma soprattutto i nostri eredi, a cui, con molta probabilità, lasceremo un pianeta diverso. Per provare a rimediare i danni, un anno fa a Parigi si è raggiunto un accordo su clima e ora a Marrakesh si discute dell'attuazione pratica di Parigi, quindi soldi, uniformità e verifica degli obiettivi, tutte cose che si attiveranno nel 2020, ma intanto il tempo passa e il clima cambia. Possiamo permetterci di stare fermi tutti questi anni? No, assolutamente no, è un'urgenza assoluta quella di mettere subito un limite alle emissioni e io speriamo che a Marrakesh questo si faccia descrivendo le regole che sono ancora aperte, di contabilizzazione, gli obiettivi, vedere quali sono i meccanismi, soprattutto le risorse finanziarie per implementare queste riduzioni di emissioni. Quindi è un momento particolare, non bisogna assolutamente mollare in questo momento. Questi cambiamenti, oltre ad essere cambiamenti climatici, sono anche cambiamenti di abitudini per milioni e milioni di persone. Per fare un esempio, gli italiani nel 2015 hanno prodotto pro capite più di 5 quintali di rifiuti urbani a testo. Sì, effettivamente è un problema che riguarda non solo le grandi aziende inquiniatrici, ma anche i cittadini stessi che effettivamente i loro stili di vita ormai sono tarati su un modello di sviluppo economico diverso e vecchio ormai, basato sul fossile. Quindi noi dobbiamo oggi invertire tutto questo con un grande sforzo di tutti i settori della società e questo significa anche produrre delle regole nuove, certe, a cui tutti ci dobbiamo misurare in qualche modo. Prima di parlare di regole, se le cose vanno bene, se tutto va come è previsto da Parigi, allo stato attuale delle cose, è previsto un aumento in temperatura a 3, 3,5. Che significa? L'impatto sarebbe molto forte perché con questi livelli di riscaldamento globale avremo circa un 200 milioni di abitanti che dovranno uscire dalle zone costiere perché ci sarà un innalzamento dei mari e quindi saranno a rischio quei territori, comprese anche le infrastrutture, come anche l'agricoltura andrà in ginocchio in molte regioni del pianeta perché queste sono temperature effettivamente che non ci possiamo permettere, come anche le estinzioni di alcune specie di animali e vegetali. Quindi è un limite da non raggiungere assolutamente. Quindi purtroppo siamo ancora un po' lontani e questa cosa a Maraghece credo che riuscirà ancora a ridurre di più le emissioni e sarà un tema da affrontare. Quindi non abbiamo proprio neanche un secondo da perdere. Ecco, ma chi deve dare le regole per cambiare? Io penso che è arrivato al momento in cui la politica ci deve mettere tutta la sua faccia, in questo senso. È un tema che riguarda tutta l'umanità. Quindi c'è bisogno di regole certe, c'è bisogno di dire ora basta, non possiamo andare avanti così per il bene dei nostri figli e delle nuove generazioni. Quindi la politica deve porre dei limiti a prescindere, per tutti i settori, sulle emissioni di Cassera. Questo per me credo che sia la cosa più importante. E faccio anche un esempio concreto. Supponiamo che gli Stati Uniti d'America, il nuovo Presidente, chiunque sia, metta un limite che le auto devono andare sotto i 150 grammi di CO2 per chilometro. immediatamente il giorno dopo ci saranno centinaia di istituti di ricerca che proporranno nuovi motori e nuovi sistemi per ridurre queste emissioni. Quindi la ricerca, l'innovazione, l'uomo è ancora in grado di poter mettere mano al proprio futuro. E c'è bisogno di qualcuno che gli dica che lo deve fare e tutti dobbiamo essere d'accordo a lavorare in quella direzione. Questo è il momento in cui la politica può giocare un ruolo importante. Quindi è arrivato il momento di cambiare. Non possiamo pensare che la natura, il pianeta si riequilibri da solo o quantomeno si riequilibri ma con delle condizioni di vita che non vanno bene per noi. Assolutamente è così. Il pensiero che tutto si possa riaggiustare da solo non è nel nostro radar del futuro. Non esiste. Dobbiamo noi avere il futuro nelle nostre mani. Essere noi in grado di cambiare le cose con la nostra intelligenza.